Dopo cinque sconfitte consecutive ed un mese senza gioie, la VL batte Trieste 94-83 trovando una vittoria scacciacrisi. Alla Vitri Frigo Arena la voglia di rivalsa della squadra di Repegia si mostra più forte della fame di salvezza dei Giuliani che rimangono sempre aggrappati al match nonostante sia Pesaro a comandare gran parte di gara. Il quarto parziale allora diventa quello decisivo dove ad un Moretti in versione trascinatore si accompagna una bella prestazione del re di Vivo Kravic in mezzo ad una trasversale buona prova collettiva. È una vittoria che tiene la VL dentro ai play-off con l'ottavo posto davanti a Brescia nonostante i Lombardi restino francobollati pari punti a Pesaro. Prossimo turno a Napoli per la squadra di Repegia che nel post partita ha ricordato quanto la VL voglia fortemente conquistare il traguardo play-off. Saranno invece play-out per la VL ma lo si sapeva anzitempo. Quello che non si sapeva è che saranno con Limolese. Questo quanto decretato dall'ultima partita di regular season dalla quale la VL spreme il massimo. Ottiene la vittoria per 1-0 contro una big come la Carrarese che ha chiuso il campionato quarta e si prende il miglior piazzamento play-out possibile chiudendo la stagione al quintultimo posto con 39 punti. A decidere il match un gol di Auccelli dopo 21 minuti al termine di una splendida azione corale in verticale a corredo di una vittoria meritata. Ora i play-out. Il 6 maggio a Imola ritorno a Pesaro il 13 maggio con la VIS in posizione di vantaggio in caso di parità nel doppio confronto. Saranno invece play-off di Serie D per l'alma Juventus-Fano che spugna anche Genzano. È un gol di Drolè a battere il Cinz al Balonga e a portare all'alma la sesta vittoria nelle ultime sette gare che blinda il quarto posto e assicura la post-season. Nel calcio 5 l'Ital Service è invece immersa mani e piedi nel rush finale della lotta salvezza. Venerdì, il quart'ultimo impegno della stagione, si è concluso con un 2-2 da bicchiere e mezzo vuoto contro l'Olympus Roma. In un palafiera gremito è andata in scena una Ital Service strepitosa nel primo tempo chiuso avanti 2-0 grazie ad una doppietta di Fortini. Nella ripresa però sono riemersi i capitolini che pareggiano i conti con Umberto e col gol dell'ex Marcelinho. Si complicano dunque le ambizioni di salvezza diretta dell'Ital Service viste anche le concomitanti vittorie di Ciampino Agniene e Real San Giuseppe. L'Ital Service tornerà in campo nella infrasettimanale del 25 aprile quando ad Avellino affronterà la Sandro Abate alle 20.30. Nel rugby bella vittoria della Fiorini-Pesaro che a Perugia si prende 5 punti in classifica grazie ad un serratissimo successo per 30-31. È invece finita la stagione della Megavox Vallefoglia che sabato ad Urbino ha perso in tre set con Pinerolo la gara 3 decisiva per entrare nella Challenge Cup.